Scusate, grazie, 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 seduti, 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 speriamo. Inizio Welch è tornata alla vittoria, ha portato nuovamente alla vittoria l'Inghilterra e Pietro Menea. Vai, vai Pierino, vai Pierino! Questa volta bisogna vincere! Vincenzo, stessi posti, ti sento? Vincenzo, vieni qua, vieni qua, posto d'onore, vieni Vincenzo, vieni, vieni, vieni. Oh, finalmente, i blocchi, i blocchi, i blocchi, i blocchi, gli altri incontorrenti. All'indietro! 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 Partito, il giusto Welch e nei confronti di Menea che lo supera subito. Ecco, vediamo l'altra lotta, spalla a spalla tra Welch e Menea. Grazie a tutti. 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 Un'atleta è sicuramente disposto, un'atleta che ha sollevato polemiche. Aspettate, il bicchiere, il mio bicchiere. Ha trovato lo blancio, il carattere per aggiudicarsi straordinariamente questa... Non sapete da quanto aspettavo questo momento. E' finalmente arrivata. Auguri! 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 Bravo, Pietro! Stagna a ruoto! Piemino, grande, grande! Uno! Grazie a tutti.